Ok, rieccomi. Stavamo parlando di questa che non conosco il nome, però io la trovo carinissima. Lei è il pony. Non è carina? C'è l'occhio anche di qua. E questa è un'altra. Io non so cos'altro farvi vedere, ne avrei tante di cose, però non so se le avete già viste. Poi c'è un macello qua ogni volta. Questa Trili l'avete vista? Stile inverno. E che carina, la mia Trili lina. Poi vediamo un po'. Una Trili normale, se riesco a farvela vedere. In mezzo a tutto sto macello. Eccola qua. Sì, lo so, non si vede una mizzica, però c'è tutto incastrato qua dentro. Va bene. La tiro fuori e faccio prima. Allora, lei. Che carina! Poi c'è Argentea. Una. Ne ho fatte due. Una con la manina... Eh no, ce l'hanno tutte due la manina su. E poi un'altra Trili inverno. Che carina! Vabbè raga, non riesco a farvi vedere. Ah, Lady Oscar, aspetta. Lady Oscar forse... No, quella ci tengo a farvela vedere. E anche la Dubarri. Questa è la Dubarri del cartone di Lady Oscar. Praticamente uguale. Carina, mi piace. Poi le tre versioni di Lady Oscar, con Rosalie. Tiriamo fuori. Allora, Lady Oscar, quattordicenne, che comincia come capitano là. Poi scatto successivo, quando ha l'uniforme rossa. E poi l'ultima, con l'uniforme blu e i capelli più lunghi. Io le trovo fantastiche. Beh, forse perché sono di parte, le ho fatte io. Questa invece è Rosalie. Molto carina. Che lei. E questa è la Bandali di Oscar. Poi vediamo un po' cos'altro c'è di carino da farvi vedere. Candy Candy. Che forse non avete visto. Non ce la faccio tirarla fuori. Va bene. Non ce la faccio tirarla fuori. Tiriamo fuori tutte e tre. Allora, questa l'avevate già vista, via. Mi sembra che l'avevate già vista. Via la sfida della magia. Questa è Magica Emi. Carinissima. Candy. Vestita da college. Che forse non avevate visto. Poi... Ovviamente tutte le mie creazioni sono in vendita. Ah, Vanello perché non l'avete vista. Anche queste non l'avete vista. È vero. Cioè, ragazzi, mi sa che salta la review, va? Dei hobby perline. Questa è la... Come si chiama? Come si chiama? Del film Frozen della Disney nuovo che deve uscire. Non è meravigliosa? Sì, ragazzi. La trovo fantastica. E questo è Vanello P. Quella di... Sempre della Disney. Film Ralph Spaccatutto. Ne ho fatte due, ma una è andata. Poi... Aspetta... Ah, Crini versione... Forse non l'avete vista. Vabbè, tiriamola fuori tutto perché sennò qua è un macello. Allora, Crini versione con un altro abito. Carina. Rebel. Non so se l'avevate già vista questa. Forse no, però. E Evelyn. Boh, non so se l'avevate già vista. Mi sa di no, però. Poi, cos'altro c'è qua? Ah, sì. Queste qua, che sono carine. Tiro fuori tutto. Allora, questa è Lise Seiya. Del cartone animato Lise Seiya. Poi c'è Magica Emi. Carino. Sì, è bellino. E poi c'è Noah. Db e Noah. Db e Noah. Db e Noah. Db a sfida della magia. Poi abbiamo... Vabbè, Sirenetta. Si è vista e stravista. La volete vedere? Ma sì, allora la faccio vedere. Sirenetta. Che carino. Memole. Ma sì, vediamo anche Memole. Sa che la review salta oggi, eh, raga. Mi sa proprio che salta. Mi sa proprio che salta. Mi sa proprio che salta. Vabbè, ve ne faccio vedere una. Tanto sono tutte e tre uguali, perché le ho fatte tre uguali. Memole. E Memole è il nome mio. Folletto sono io. In una foresta sto. E molti amici ho. Poi... Qui cos'ho? Ah, Giorgi. Carina, Giorgi. Ma Giorgi non se la fila nessuno. Non capisco perché. Il cartone è così bello. Giorgi. Eccola qua. Che carina. Giorgi. Poi un paio di alici. Volete vederle? Vediamo fuori le alici. Oh mamma. Allora. Una. C'è la bocca un po' storta. Vabbè. Una. Due. Qua si fece sempre tutto. Mamma mia che nervoso. E dai. E su. Vabbè. Due. Tre. Che carina. Quattro. Un po' più vecchiotta. Si vede che questa qui è più vecchia. E questa fatta di recente. Sia dal colore dei capelli. Perché qua prima usavo il colore oro. giallo. Invece adesso mischio i colori. Mischio il primo e i cru. Il giallo girasole. Se è quello della fimo. Se no il cadmio. Quello della premo. E giallo cadmio. E un pelo di bianco. No un pelo. Un bel po' di bianco. E viene fuori questo bel giallo. Biondo proprio. Anzi voi addirittura. In video lo vedete proprio giallo giallo forte. Invece dal vivo. È proprio un biondo. Quasi spento. Ecco. Un bel biondo. Comunque si vede la differenza. Perché questi sono più. Sono più scuri. Invece a me piacciono questi qua di colore. Poi c'è questo. Vabbè. Niente di che. Va bene raga. Io direi che basta. Perché. Magari ne volete vedere ancora. Però. Sinceramente. Gli altri. Sono cose più vecchiote. Non sono il massimo. Ah. Posso farvi vedere le Monsterite. Dai. Vi faccio vedere. Le Monsterite. Mi sono rimaste. E basta. Ovviamente. Se volete venirmi a trovare. Sulla mia pagina Facebook. Vi interessa qualcosa. Fatemelo sapere. E vediamo cosa si può fare. Questa è Guglia. La zombie. Guglia. È l'ultima che mi è rimasta. Questa è Operetta. E questa è Clove Dean Wolf. Questi tre. Poi mi sono rimaste. E. Mi sono rimaste. Mi sono rimaste. Allora. Questa. Questa. E questa. Allora. Mi sono rimaste. Questa. Che è la scheletica lì. Scheleti. Vabbè. Qualcosa del genere. La. La. La figlia del. Dello. Ieti. La delle nevi. E poi. La. La Clio. L'egiziana. Va bene. Va bene ragazzi. Io direi che la review. A Obi Perline. Non la faccio. Perché secondo me. Il video. È già abbastanza. Lungo. Se no. Mio marito. Ma ammazza. Perché la deve caricare lui. E. Per cui. Vi saluto. Con le mie. Dolline. Nataline. Visto che si sta avvicinando al Natale. Oddio. Manca ancora un mese e mezzo. Però. Vabbè. E. Vi saluto raga. Ciao. Ciao.